Buongiorno, oggi parliamo del settore socio-sanitario, la lezione è divisa in due parti. Nella prima parte analizzeremo e spiegheremo brevemente come è organizzato il Servizio Sanitario Nazionale e nella seconda andremo a vedere invece quelle che sono le aziende socio-sanitarie, qual è la loro struttura e qual è la loro organizzazione. Allora, partiamo subito con il definire il Servizio Sanitario Nazionale. Per farlo, come spesso accade per i servizi erogati dallo Stato, partiamo dalla Costituzione e in particolare dall'articolo 32 che afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantire gli studenti. Il settore socio-sanitario, pertanto, è caratterizzato dalla rilevanza sociale della salute. Quindi non è un semplice bisogno da soddisfare attraverso le leggi di mercato, ma è un interesse e un diritto da tutelare. Quindi il Servizio Sanitario Nazionale è quell'insieme di enti pubblici e di organizzazioni private che operano per tutelare la salute dei cittadini, salute che appunto è un diritto fondamentale. Come è organizzato? In questo semplicissimo schema possiamo vedere tre livelli di organizzazione in cui è articolato il Servizio Sanitario. C'è il primo livello che è quello nazionale costituito dal Ministero della Salute e da vari altri enti nazionali tra cui il Consiglio Superiore di Sanità che è un organo consultivo tecnico-scientifico e da enti di carattere nazionale come ad esempio l'Istituto Superiore di Sanità. Quindi enti che esercitano, come nel caso dell'Istituto Superiore di Sanità, attività di ricerca, sperimentazione e controllo. Poi c'è un secondo livello che è quello intermedio per così dire, che è formato dalle regioni. Le regioni gestiscono autonomamente i servizi sanitari del proprio territorio. Quindi c'è stata una cessione del potere amministrativo e gestionale dallo Stato alle regioni. Regioni che sono quindi pienamente investite di questo potere e di questa autonomia. Esse individuano i servizi aggiuntivi da fornire ai cittadini rispetto ai livelli essenziali di assistenza nazionali. Lo Stato quindi si limita a delineare quelli che sono appunto i LEA, ossia appunto questi livelli essenziali di assistenza e spetta alle regioni capire come far sì che questi livelli essenziali di assistenza vengano soddisfatti. Il finanziamento della spesa sanitaria quindi è a carico delle regioni che vi provvedono utilizzando le risorse del proprio bilancio. Poi lo vedremo meglio. Le regioni predispongono il piano sanitario e sociale regionale e coordinano le azioni delle aziende sanitarie locali, le cosiddette ASL, che operano al terzo livello, ossia a livello locale. Il livello di autonomia che le regioni affidano alle ASL varia da regione a regione a seconda del controllo, che può essere minore o maggiore, a seconda appunto dell'ente regionale. A livello locale quindi abbiamo detto operano principalmente le ASL, le aziende sanitarie locali, affiancate però anche da altri enti come ad esempio le aziende ospedaliere. L'organizzazione del sistema sociosanitario può anche in questo caso variare, quindi possono esserci vari enti, varie agenzie, varie aziende, a seconda appunto della regione, a seconda appunto anche della situazione territoriale e delle esigenze del territorio. Quindi sempre a livello locale possono operare anche aziende sociosanitarie private accreditate ed enti non profit accreditati. Quindi c'è un intervento anche di soggetti privati e non solamente di soggetti pubblici. Cosa sono le ASL, aziende sanitarie locali? Sono i punti di contatto tra la rete sanitaria e il cittadino in pratica, ossia quegli enti che operano, quindi che hanno un contatto diretto con il territorio e che operano all'interno del territorio. Le ASL hanno personalità giuridica pubblica e sono dotate di autonomia organizzativa, gestionale, tecnica e amministrativa, quindi sono comunque delle entità autonome. La loro finalità ovviamente è quella di tutelare la salute pubblica offrendo un servizio efficace ed efficiente. I termini efficace ed efficiente li andremo ad analizzare alla fine della lezione quando andremo a parlare delle aziende sociosanitarie. Ora andiamo a vedere quello che è l'organigramma delle ASL. Come funziona l'organigramma di una ASL? Si parte dal vertice, ossia dal direttore generale. Poi c'è un collegio sindacale con compiti di controllo. C'è un collegio di direzione che si occupa di quelli che sono i problemi legali e di comunicazione. E poi ci sono due figure che sono il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il direttore amministrativo coordina i movimenti finanziari e si occupa di quelli che sono i dipartimenti e i distretti. La differenza tra dipartimenti e distretti la vediamo dopo. C'è infine un direttore sanitario che si occupa dei presidi ospedalieri e in generale di quelli che sono i servizi di cura e prevenzione. Le ASL sono quindi organizzate in dipartimenti che sono unità operative omogenee con finalità comuni come ad esempio il dipartimento di prevenzione, il dipartimento di cardiologia, eccetera. E quindi che comunque hanno delle finalità operative in determinati ambiti. Ci sono poi i distretti che forniscono prestazioni amministrative come l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, la scelta e la revoca del medico o del pediatra di famiglia, informazioni sulle procedure per riconoscimento dell'invalidità civile, certificazioni medico-legali e così via. Oltre a fornire queste prestazioni amministrative i distretti operano anche all'interno dell'assistenza primaria e quindi forniscono servizi di ambulatorio, di consultorio, servizi per i disabili, assistenza domiciliale, servizi di guardia medica e così via. Infine ci sono i presidi ospedalieri che erogano invece prestazioni specialistiche e sono formati dagli ospedali gestiti dalle ASL. Quindi questi tre settori, queste tre unità, praticamente compongono l'organizzazione complessiva delle aziende sanitarie locali. Che cos'è l'azienda ospedaliera? L'azienda ospedaliera sono quegli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione con un'ampia autonomia sanitaria e amministrativa. Le aziende ospedaliere non rientrano quindi nell'organizzazione delle aziende sanitarie locali ma sono delle entità autonome staccate da questa organizzazione. La stessa cosa vale per le aziende ospedaliere universitarie ovviamente. La differenza è che qui oltre a svolgere attività di assistenza, di cura, sempre di alta specializzazione, c'è integrato anche il servizio di attività didattiche e di ricerca. Molto spesso, anzi quasi sempre ovviamente, correlato, unito ad un ateneo e quindi unito all'organizzazione e alle risorse di un'università. Poi ci sono un altro ente, un altro soggetto che opera all'interno del servizio sanitario nazionale che sono le aziende sociosanitarie accreditate. Questi sono enti privati, aziende private e del settore no profit che forniscono servizi sociosanitari a livello locale. Queste aziende private, però, per operare, hanno bisogno di un'autorizzazione e di un accreditamento. Rientrano in questa categoria delle aziende sociosanitarie accreditati i centri medici, gli istituti di radiologia, i laboratori di esami chimico-clinici, le residenze sanitarie assistenziali per anziani, le comunità alloggio, i centri di riabilitazione e di assistenza domiciliare e così via. Queste aziende sono in possesso di un'autorizzazione che riguarda il funzionamento delle strutture e di un accreditamento che garantisce la qualità dell'assistenza e dei servizi offerti. L'accreditamento, è bene sottolinearlo, è obbligatorio e viene fornito dalla Regione. Tale rilascio avviene dopo che è stata svolta un'istruttoria da parte di una commissione nominata dal Direttore Generale dell'ASL e composta da esperti ovviamente del campo tecnico, sociale e sanitario. Dopo l'istruttoria, quindi, viene ottenuta l'autorizzazione al funzionamento. Detta autorizzazione costituisce ovviamente un prerequisito a quello che è l'accreditamento della struttura. Il processo di accreditamento è appannaggio della Regione. I piani sociosanitari della Regione e la programmazione locale dei comuni e delle ASL stabiliscono il fabbisogno delle varie strutture da accreditare. L'accreditamento, quindi, deve attenersi ai criteri e alle linee guida indicate dalla Giunta regionale. Passiamo al piano sociosanitario regionale. Prima di definire che cos'è il piano, dobbiamo definire che cos'è la pianificazione strategica. Le aziende sociosanitarie operano in un sistema nel quale il settore pubblico determina quali sono i servizi da produrre e gli interventi da attuare. Questo lo abbiamo detto. Sono enti privati, ma che operano all'interno di un ambito pubblico, in cui dai livelli essenziali di assistenza definiti dallo Stato a quelli che sono invece gli obiettivi e gli interventi da attuare sono tutte linee definite, appunto, quindi da enti pubblici, che poi, definite dagli enti pubblici. Il processo di redazione di documenti e piani con i quali si stabiliscono i traguardi di sviluppo e di crescita è detto pianificazione strategica. Quindi sono documenti che vengono redatti per definire quelli che sono i traguardi e gli obiettivi a livello sociosanitario regionale. Vengono definiti ogni tre anni. Quindi il principale strumento di questa pianificazione per attuare il welfare sociale è appunto il piano sociosanitario regionale. La stesura di questo documento avviene attraverso la partecipazione allargata di tutti i soggetti interessati. Quindi abbiamo la partecipazione degli utenti, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni di volontariato e di tutti gli enti del terzo settore. Ovviamente partendo da quelli che sono gli enti locali. Tutti questi soggetti quindi redigono propri documenti di programmazione coerenti con la pianificazione e l'indirizzo politico della regione in cui operano. E quindi c'è una concertazione di tutti questi enti per far sì che si raggiungano gli obiettivi comuni dettati appunto dall'indirizzo della regione. Il piano sociosanitario regionale ha una durata triennale, come abbiamo detto, ed è elaborato sulla base della progettazione comune di tutti questi enti. Che cosa contiene questo piano sociosanitario regionale? Contiene gli obiettivi strategici da raggiungere in termini di salute dei cittadini, contiene le risorse finanziarie a disposizione e la capacità di offerte di servizi sociosanitari, contiene i progetti, le azioni del piano, cioè i progetti da realizzare per l'infanzia, gli anziani, le famiglie, le persone con disabilità, gli immigrati, i soggetti che vivono in situazioni di disagio sociale e economico, quindi tutti quei soggetti che rientrano all'interno del welfare sociale, e infine le modalità con le quali si esegue il processo di valutazione. Quindi abbiamo obiettivi, risorse, progetti da realizzare e modalità di valutazione. L'obiettivo, che ovviamente segue le direttive della regione, è comunque quello di realizzare in ogni caso il welfare sociale, che si realizza attraverso appunto una serie di interventi e di servizi a sostegno della popolazione. Passiamo a un altro concetto importantissimo, che è la carta dei servizi. La carta dei servizi che cos'è? È lo strumento attraverso il quale gli enti erogatori rendono noti gli standard qualitativi e quantitativi della propria prestazione. Quindi è una sorta di servizio di informazione e trasparenza per informare l'utente ultimo di quelli che sono i servizi e di quelli che sono gli standard qualitativi di questi servizi. La carta dei servizi viene resa disponibile presso i servizi sociali degli enti territoriali e presso le organizzazioni del privato sociale che operano nel territorio. Gli enti territoriali stabiliscono quindi gli standard di qualità delle prestazioni socio-assistenziali. Queste prestazioni riguardano servizi di ascolto e di orientamento, che comprendono in particolare il servizio sociale di base, servizi specialistici che si occupano dei problemi della persona e della famiglia, parliamo ad esempio dei centri di accoglienza, i centri di urni, il telesoccorso, il servizio di trasporto agevolato, il servizio di integrazione straniera, il servizio di adozioni o i centri affido, i servizi pasti a domicilio e così via. Poi ci sono i servizi di prossimità sociale, che agiscono da supporto ai cittadini e di promozione della socialità. Parliamo ad esempio dei centri di aggregazione per gli anziani o i servizi di trasporto agevolato. E infine i servizi di sostegno economico, che compartecipano al pagamento delle rette per le strutture residenziali per anziani e disabili, erogano contributi a famiglie con figli minori in condizioni di disagio, e che distribuiscono buoni per il mantenimento di anziani e disabili a domicilio e così via. Quindi i servizi in pratica di sostegno economico, che possono poi realizzarsi in vari modi diversi. Gli standard qualitativi di questi servizi sono comunicati in modo chiaro e trasparente ai cittadini e sono monitorati in modo costante. Passiamo alla seconda parte della lezione, che riguarda sempre il settore socio-sanitario. Questa seconda parte si focalizza di più sull'organizzazione delle aziende socio-sanitarie. Innanzitutto bisogna iniziare con il dire che a livello organizzativo c'è stata un'evoluzione negli ultimi anni che ha fatto sì che l'organizzazione delle aziende socio-sanitarie passasse da un'organizzazione di tipo gerarchico a un'organizzazione invece in cui viene privilegiata la partecipazione e la condivisione delle decisioni. Le strutture organizzative sono passate da un modello gerarchico a modelli organizzativi che privilegiano la partecipazione dei lavoratori e la condivisione delle decisioni. Questo per quale motivo? Perché una volta le aziende della pubblica amministrazione operavano attraverso un assetto organizzativo classico, di tipo gerarchico, quindi fortemente centralizzato e basato su procedure burocratiche, tuttavia seguendo queste regole, queste procedure e questa gerarchia si è visto che queste strutture si dimostravano lenti, inefficienti e inefficaci. A partire dagli anni 90 quindi succede una sorta di rivoluzione che va ad aumentare, ad implementare quella che è la flessibilità organizzativa degli enti che operano all'interno di questo ambito e di tutta la pubblica amministrazione in generale in realtà. Quindi a partire dagli anni 90 del secolo scorso ci sono stati interventi legislativi mirati che hanno reso la macchina amministrativa più flessibile attraverso, in primis, l'abbandono del controllo centralistico e la responsabilizzazione degli enti che operano a livello locale. In secondo luogo, c'è stata una semplificazione degli organigrammi, la riduzione del numero di dipendenti e l'introduzione di strumenti più flessibili di impiego. Terzo, c'è stata l'affermazione del principio della responsabilità dei dirigenti e l'adozione di strumenti di verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati. E infine, l'adozione di strumenti che consentono la partecipazione degli stakeholder, ossia cittadini, imprese, enti non profit, eccetera, ai processi di gestione della pubblica amministrazione. L'abbiamo visto prima, quando abbiamo parlato del piano sociosanitario regionale. La gestione delle aziende sociosanitarie, quindi. Quali sono gli elementi che caratterizzano la gestione delle aziende sociosanitarie? Sono quattro gli elementi principali che caratterizzano questa gestione, ossia la qualità, l'efficacia, l'efficienza e la proprietà. Cosa si intende per qualità? La qualità ha diversi significati e sono, nella fattispecie, quattro. I primi due, diciamo, prendono in esame quelli che sono gli elementi costitutivi dell'azienda sociosanitaria, mentre i secondi due hanno, diciamo, come punto di vista gli utenti finali, ossia i cittadini. La qualità programmata è quella che l'azienda sociosanitaria ha inizialmente indicato in sede di stesura dei documenti illustrativi dei suoi progetti. La qualità erogata è quella che presentano i servizi forniti effettivamente dall'azienda sociosanitaria. La qualità attesa è la qualità che i cittadini e gli assistiti pensano concretamente di ricevere dai servizi e dalle prestazioni dell'azienda sociosanitaria. Infine, la qualità percepita è quella che i cittadini e gli assistiti ritengono di aver realmente ottenuto dai servizi e dalle prestazioni dell'azienda. La qualità può e anzi deve essere soggetta a accreditamento o certificazione. Per operare all'interno di questo ambito, questi enti privati devono comunque essere accreditati. L'accreditamento è un processo con il quale un ente pubblico attesta che l'azienda sociosanitaria è in possesso dei requisiti qualitativi, strutturali, tecnici e professionali per operare per conto del Servizio Sanitario Nazionale. L'accreditamento è obbligatorio per le aziende sociosanitarie che vogliono operare per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi abbiamo detto che la qualità deve essere certificata e deve corrispondere appunto a dei requisiti qualitativi, strutturali, tecnici e professionali ben definiti. Parliamo ora dell'efficacia e dell'efficienza, che sono due termini che abbiamo già incontrato. Per efficacia si intende la capacità dell'azienda sociosanitaria di raggiungere gli obiettivi prefissati e si misura calcolando il rapporto percentuale tra obiettivi e risultati. L'efficienza invece è la capacità dell'azienda sociosanitaria di raggiungere un obiettivo con il minimo delle risorse disponibili. Si determina calcolando il rapporto tra i risultati o output e le risorse utilizzate e sarà maggiore ovviamente quanto più l'azienda riesce a ottenere lo stesso risultato utilizzando però minori risorse in input. L'ultimo concetto fondamentale per quanto riguarda appunto gli elementi della gestione delle aziende sociosanitarie è l'appropriatezza. L'appropriatezza misura l'utilità di una prestazione sociosanitaria che è appropriata se viene erogata in modo tempestivo ai seggetti che ne hanno effettivamente bisogno e al minor costo possibile. L'appropriatezza prende in considerazione le esigenze di chi domanda un servizio sociosanitario e la capacità tecnica ed economica di chi offre il servizio e si verifica quando l'erogatore del servizio sceglie tra gli interventi più opportuni che hanno maggiori probabilità di successo, quello che ha un costo inferiore. Anche il Ministero della Salute si è espresso sul concetto di appropriatezza. Quella che viene definita una cura appropriata consiste nella selezione sulla base degli interventi di cui è stata dimostrata l'efficacia per un determinato disturbo dell'intervento con la maggior probabilità di produrre gli esiti di salute attesi da quel singolo paziente. Questa efficacia deve essere poi accompagnata da competenze tecniche e di tutte le risorse necessarie alla realizzazione di una prestazione con uno standard sufficientemente elevato. Oltre a questo, le modalità devono essere accettabili dal paziente e infine ai pazienti dovrebbero essere fornite adeguate informazioni sul range degli interventi di provata efficacia pratica. Quindi anche la trasmissione delle informazioni e il consenso informato devono avvenire in maniera corretta. Quali sono gli indicatori di gestione, ossia come possiamo capire se la gestione sta andando bene o sta andando male? Ci sono appunto degli indicatori di output e degli indicatori di outcome. Gli indicatori di output misurano i risultati delle attività dell'azienda sociosanitaria in termini di prestazioni prodotte. Per esempio in campo sanitario un indicatore di output il numero di interventi chirurgici eseguiti in una struttura ospedaliera. Quindi è la misurazione delle prestazioni prodotte. Gli indicatori di outcome invece misurano il risultato sociale delle attività dell'azienda sociosanitaria così come è stato realmente percepito dagli stakeholder esterni in termini di modifiche dei loro comportamenti. Per esempio è un indicatore di outcome il numero di persone che ha fatto uno screening dopo una compagna promossa dal Ministero della Salute. E quindi è la misurazione non delle prestazioni prodotte ma la misurazione del risultato che quelle prestazioni hanno prodotto. Con questi ultimi due concetti si chiude la lezione. Grazie. Grazie.